Assegnata a un Cerveterano, Roberto Urchi, in qualità di direttore generale della tenuta di Alberico, il premio Bandiera Verde dell'Agricoltura indetto dalla CIA, la Confederazione Agricoltori Italiani. Presso la sala della Protomoteca di Roma, al Campidoglio, sono stati assegnati i riconoscimenti alle aziende agricole più meritevoli, seguendo una serie di parametri, dall'innovazione alla tecnologia, passando per il green e la sostenibilità ambientale. Siamo stati gratificati per questo premio che oggi andremo a ritirare. Siamo un'azienda che lavoriamo nel biologico, è un'azienda molto importante alle porte di Roma. Il merito è di tutto lo staff e di tutti i miei dipendenti, quindi questo premio lo condivido con tutti loro. Alla cerimonia ha preso parte anche il presidente di CIA Roma, Riccardo Milozzi, che si è complimentato con l'azienda romana unica della regione a ricevere l'ambito riconoscimento di Bandiera Verde. Sicuramente dobbiamo fare di più, ma noi stiamo facendo una politica a difesa del territorio, di affiancamento alle aziende, valorizzandole sempre di più nel rispetto dell'ambiente e nella produzione più che altro di cibi di qualità.